C'è una persona che ha seri problemi di salute, di diabete innanzitutto e di ipertensione. Ci auguriamo, io l'ho già sollecitato, che venga trattato nella maniera più adeguata, perché la situazione è una situazione seria. Poco più di due ore di colloquio per accertarsi innanzitutto dello Stato di salute e poi per mettere a punto le strategie difensive in vista dell'interrogatorio di garanzia in programma all'inizio della prossima settimana. Gli avvocati Michele Laforge e Federico Massa hanno incontrato questa mattina l'ex vicepresidente della giunta regionale pugliese, Sandro Frisullo, all'indomani della prima notte trascorsa nel carcere di Bari, dopo l'arresto per la presunta Tangentopoli all'Ansle di Lecce. I legali puntano alla scarcerazione non solo per le cattive condizioni fisiche, ma anche perché secondo loro non ci sarebbero le esigenze cautelari. Noi non abbiamo lamentato in sé i dieci giorni dalle elezioni. Noi abbiamo detto che dieci giorni dalle elezioni, un arresto a dieci giorni dalle elezioni, si giustifica solo in presenza di esigenze cautelari urgentissime e inderogabili. Dove sono le esigenze cautelari in questo caso? Noi siamo in presenza di un indagato che non è più assessore regionale vicepresidente da giugno, che non ha più nessun incarico pubblico. La forgia smentisce anche le presunte dichiarazioni dell'imprenditore Gianpaolo Tarantini, secondo il quale l'ex esponente del PD avrebbe ricevuto 12 mila euro al mese, oltre ad abiti costosi e le prestazioni sessuali da parte di alcune escort, in cambio di aiuti nelle gare per fornitura ospedaliere. Come abbiamo già detto, perché in realtà lo ha già detto Sandro Frisullo quando è stato interrogato dai pubblici ministeri, l'unica colpa che gli si può attribuire è quella di avere frequentato e avuto rapporti personali con Gianpaolo Tarantini, che è la ragione per la quale a suo tempo, prima di ricevere qualsiasi avviso di garanzia, si è dimesso e ha cessato ogni suo incarico di politica pubblica. Sandro Frisullo non ha mai ricevuto denaro da Gianpaolo Tarantini, non è mai stato al libro paga di Gianpaolo Tarantini e di nessun altro.